Con tua moglie stamattina non l'ho vista per niente. Eh, la domenica è sacra, messa, non si scappa. Gordo. Ma fratello caro, io non so fra te e tua moglie, ma mi passate le giornate in chiesa, eh che... Ma che signore? Deve avere fede, deve credere in qualcosa, che vuol dire? Oh, altrimenti... Pinocchio, io riesco a vivere bene, pure essendo ateo, senza credere a niente, sta tranquillo. Ma senti, io comunque ti devo dire che sono un credente convinto proprio, un fedele convinto. Oh, scusate, da dove viene fuori questa tua credenza, questa convinzione, questa fedeltà alla chiesa? E mo' te lo spiego. L'anno scorso andammo in pellegrinaggio a lui. Ah. E portai mia suocera. Come arrivammo, la calai subito immediatamente nella vasca dell'acqua benedetta. E vabbè, che c'è stato il miracolo? Oh. E' affogata. E' affogata. Più miracolo di quello, umberto.